Una nutrita compagine di consiglieri e amministratori eletti nelle liste civiche di una decina di comuni del veneziano si sono uniti per dar vita a un nuovo soggetto politico. Progetto iniziativa civica raduna sotto un simbolo comune le diverse esperienze di Venezia, Miradolo, Fosso, Cona, Iesolo, Eraclea, San Michele, Altagliamento, Mirano e Martellago. È da un anno che stiamo lavorando, è un gruppo di amici consiglieri eletti in tutte le liste civiche delle varie comuni della provincia di Venezia. Il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare con i cittadini, è per questo che nasce questo gruppo spontaneo. L'idea è quella di un civismo che non guarda le ideologie ma i problemi concreti da risolvere, una formula già sperimentata da Luigi Brugnaro, col quale alcuni di questi militanti vantano una stretta collaborazione. Luigi lo dice sempre, noi dobbiamo lavorare per aiutare a trovare le soluzioni ai problemi della nostra città e delle nostre città, in questo caso anche della città metropolitana. Quindi la collaborazione è massima, ma ripeto, è massima con tutti, con Luigi Brugnaro innanzitutto, ma anche con tutti coloro che ci stanno. Noi siamo qui proprio per dialogare con queste istituzioni. Non siamo né di destra né di sinistra, assicurano. Il nostro obiettivo è intercettare le reali necessità dei cittadini e anticiparne le risposte. Non è che il sinistra e il destra non vanno d'accordo, perché se le mentalità e le idee sono buone, perché non dobbiamo sposarle? Dunque, come dicevo prima la parola, libertà di idee, di espressione e naturalmente forza verso quello che è la mancanza della parola che qualche amministratore ha verso i cittadini.